Bene, buongiorno a tutti. Vi ringrazio per essere qui perché per noi IOP è un tassello fondamentale del contesto associativo, ma è soprattutto un tassello fondamentale dell'economia metropolitana. Ne parlavamo prima con l'autororta, certamente rappresenta una delle eccellenze che il territorio può vantare, eccellenza a livello nazionale, e come tale, in quanto portatrice di grandi investimenti, sia passati che futuri, vi parlava prima, 40 milioni nei tre anni precedenti e 40 milioni previsti nei prossimi tre anni, quindi parliamo di cifre rilevantissime, con livelli qualitativi di eccellenza di altissimo livello a livello nazionale, credo che faccia parte di una di quelle filiere di eccellenza che il nostro territorio può vantare, che vada ulteriormente valorizzata e che vada supportata da tutti i punti di vista. Quindi vi ringrazio di questa presenza numerosa. I problemi che l'ospedale della privata affronta e sta affrontando sono problemi che sono sicuramente problemi della stessa associazione e ne faremo, saremo di supporto dove sarà possibile per riuscire a darvi una mano, magari chiarificare alcuni punti non propriamente capibili nell'immediato, soprattutto quando l'ospedale della privata magari tende a essere inserita in un circuito meno di concorrenzialità diretta dove la libertà di movimento a livello nazionale magari può essere o parrebbe essere messa in discussione. Ribadisco la centralità del vostro settore, ribadisco la centralità del vostro settore non soltanto a livello specifico di un'industria ma a livello dell'economia del territorio, quindi vi assicuro con assoluta certezza che il supporto da parte nostra sarà totale, identificandovi veramente con una delle grandi eccellenze che voi rappresentate per l'economia bolognese ma non solo, certamente molto più ampia di quella bolognese, regionale e anche nazionale. Grazie ancora per la partecipazione e buon lavoro.